Salve a tutti, Domenico Giordano della Giordano Brokers Est. In questo video voglio parlarvi dell'importanza del dato e dell'informazione. Ad ogni incontro che organizzo per gli imprenditori italiani che cercano di partire in Russia, l'importatore chiede 9 volte su 10 quanto volete fatturare in Russia, quanto volete vendere in Russia, qual è la vostra idea del mercato. Questa domanda mette sempre in imbarazzo l'imprenditore perché non sa cosa rispondere. Ebbene, un mese fa, uno degli ultimi incontri organizzati, l'azienda italiana ha detto voglio vendere 45 tonnellate del mio prodotto. L'imprenditore, con un sorriso quasi amichevole, risponde ma voi sapete che leader di mercato del vostro settore, presente da 15 anni in Russia, vende 30 tonnellate di prodotto e negli ultimi 5 anni ha investito 20.000 euro anno per pubblicità, promozione e quant'altro? Quindi facciamo due considerazioni. Quando veniamo agli incontri dobbiamo essere preparati, avere le informazioni doganali sul mercato, capire quanto i nostri competitor già vendono, come è strutturato il mercato, che quotidi di mercato hanno e quindi arrivare all'importatore e dire io voglio il 2, il 3, il 10% del mercato, voglio fatturare tot, voglio vendere tot tonnellate del mio prodotto e dovete essere anche in grado di dire sono disposto a investire perché voi volete raggiungere un obiettivo ma dovete anche per risporre le risorse per raggiungere questo obiettivo. Tutto questo condiviso con l'importatore. Quest'indagine doganali potete commissionare a società specializzate, potete commissionare a noi, potete trovarle voi, ma l'importante è avere questi dati per conoscere il mercato. Se il video vi è piaciuto mettete il vostro like, iscrivetevi al canale per restare aggiornati, vi aspettiamo nel mercato russo. Arrivederci! Grazie! Grazie!